Musica Perfetto, ho riparlato con tutti quanti che mi hanno detto cose minori E' il momento di tornare al dormitorio Ciao Koromaru, non si muove dal suo posto, immagino che non andrà via per il momento Entra Per l'ultima volta Le mie piante Tanaka E in onda un notiziario Addirittura Ed è così che divenne l'attitante Chi l'avrebbe mai detto? Cosa che in realtà la fine ha fatto Cosa che alla fine in realtà ha fatto, certo Per secondi fini, però Cosa che inizia E' impazzito Tanaka L'auto del presidente si è allontanata E' un fax, Dio mio! E' un fax, Dio mio! E' un fax, Dio mio! Borka troi ancora pubblicità E' un fax, Dio mio! E' un fax, Dio mio! E' un fax, Dio mio! E' un fax! Ma non è un fax, ma non sembravo, E' un fax. Ma è un fax, Dio mio, E' un fax. Dio mio, non si è fai pervergare il vostro, E' un cax non arrivato. Ma non si prende, E' un fax, Dio mio, non si prende, Non ha preso in giro nessuno a quanto pare. La beneficenza si fa senza dirla. Madonna mia, ma quanto è lunga sta cosa su Sanaka. Basta. Oh, grazie. Il servizio prosegue. Mi sento a pezzi. Sono troppo stanco per combattere la fatica. Domani c'è la cerimonia del diploma del terzo anno. Stasera dovrei andare a letto presto. Sì, però prima ci sono alcune cose che vorrei controllare. Ciao, Yukari. Quale foto? E un'altra persona. Dov'è la foto, però? Eccola. È una foto di Sanada, Mitsuri Aragaki. Aragaki sembra avere un leggero sorriso. Allora, ci sono due stanze che sicuro voglio controllare. La prima è questa. La stanza di Aragaki. Continuerò ad avere caro ciò che ha lasciato. Ok. La seconda, ovviamente, è quella di comando. È ben chiusa. Addirittura non ci dicono nulla. D'accordo. Ed infine il tetto. Vediamo. Le mie piante, se ci sono ancora. Sì, ci sono. Sembra che si possano raccogliere. Il raccolto è aumentato. Eh, beh, certo. Che bel cielo. Non ci avevo mai fatto caso. Possiamo tornare in stanza ora. Cosa stavo guardando? L'orologio? Ho ricevuto un messaggio. Non c'è il nome del mittente. Chi l'ha mandato? Grazie. Potrebbe essere... Riogi. O chiunque altro. Addirittura potrebbe essere... Elisabeth. Però non credo. E la fotografia? Mi fanno ricordare dei momenti preziosi. Certo che quest'anno sono successo un sacco di cose. Eh beh. Io e Maya abbiamo passato un sacco di tempo assieme nel gioco. Ho capito qualcosa di importante tramite il gioco. Per poi applicarlo nella vita reale. È il momento di andare a dormire. Per qualche motivo mi sento molto stanco. Forse dovrei andare a letto. Eh beh. Ciao Aegis. Ma certo. Entra pure. Sta piangendo addirittura. Eri l'unica parte fuga che non mi è venuta a parlare. Qualcosa ti preoccupa? Eh beh. Ma anche io eh. Io giocatore almeno. Aspetta. Mi sta venendo un grandissimo dubbio. Ma voglio andare avanti senza dire nulla. Non piangere. Non vado da nessuna parte. Forse. Già. Madonna mia. Quanto abbiamo dormito. Sul tetto. No. Sì, questo è il momento di riuscire a riuscire a riuscire. Mi si sta stringendo il cuore, nonostante tutto. Mi si sta un po' stringendo il cuore, nonostante tutto. Nonostante tutto, nonostante tutto. Ebbè. Nessuno lo immagina però, secondo me sta iniziando a ricordare tutto. Finalmente vediamo degli studenti normali. No, Dio mio, ho giunto un pesante sul cappello. No. Ah, e... Cioè, cosa cosa? Sì, non lo so! Ah! Ma ora è diverso. Il mio amore è il mio aiuto. Non non lo so. 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 Un'impeccata! Mizzle! Noi! ...e che ci sono... ...e che mi sono un amico importante... ...e che non ci sono mai più vicino... ...e che non ci sono mai più vicino... ...e che non ci sono mai più vicino... ...Sempaio... ...e che è lui e Aigis... ...sì, lo so, vedi. ...Vi andiamo... bello sta ancora andando avanti ovviamente ma c'è una cosa che questa storia non ha rispetto a quella del 4 del 5 per quanto sia bello tutto non mi sta colpendo al cuore come gli altri due è bellissimo tutto questo ho i brividi dappertutto già con un giusto e'ata sgite in te si mangià già aなたと一緒に戦って世界の終わりと向き合って私 ようやく少し分かりました 私の探していたもの 生きるってどういうことなのか それはたぶん 逃げないできちんと考えること 終わりと向き合うこと どんなものにも必ず終わりが来る どんな命もいつかは消えてしまう それが自分にも来るっていうことを見つめた人だけが きっとわかるんです 自分が本当に欲しいもの 生きる証が何なのかってことが コロマル 自分が減ることができるんだろう 自分が減ることができるんだろう 自分が悲しいことができるんだろう 今ならわかります 守ることはもう私にとって 与えられた役目じゃなかったんです いつの間にか 私自身の望みに変わってて 滅びと向き合うって決めたとき はっきりわかったんです 二度とあなたに会えなくなるって想像したら 自分の望んでることが 初めてわかりました だから私決めたんです 私これからもずっとあなたを守りたい あなたの力になりたい こんなのきっと私じゃなくたってできることだけど でもいいんです そのためなら 私はきっとこれからも生きていけるから ありがとう 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 えっとOK えっとOK おかしいですね せっかく 大切なことがわかったのに come... ooooi! a... mi nasa! ... 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 Sì, anche se noi viveremo. Se per te proteggere... Sì, veramente? Non serve Mi sto addormentando Sento gli occhi pesanti Chiudi lì Sento gli occhi Sento gli occhi Sento gli occhi Già Allora Allora Bello Davvero bello Mi spiace solo che Non mi ha dato la stessa emozione Di persona 4 e 5 Entrambi mi hanno Fatto piangere alla fine Mi hanno veramente colpito al cuore Questi sono belli Sono bei titoli Questo non fa eccezione di sicuro Però Non lo so forse La storia fin dall'inizio Non mi ha coinvolto come volevo Fino a un certo punto Fino a che non è arrivata La bella ciccia Quella importante della trama E quindi non mi sono Forse legato così tanto Ai singoli personaggi E a tutto quello che girava attorno Nonostante tutto Nonostante sia un bel titolo E tutto il resto Non mi ha lasciato lo stesso Impatto Degli altri due Nonostante sia davvero un bel gioco E sono contento di averlo giocato Manca ovviamente Un pezzo di trama Manca un pezzo di trama Lo so Che è data dal DLC Data dal DLC E qua Si ritorna un po' Allo stesso discorso Di Kingdom Hearts Decidere di mettere La conclusione vera Di un titolo A pagamento E questa cosa Mi sta veramente sulle balle Questa cosa mi sta veramente sulle balle Anche se Parlandoci chiaramente Questo titolo Diciamo che rappresenta Quello che era il gioco originale E ci sta Mentre per il Vero finale Tu dovevi rigiocarti da capo L'intero gioco Con un altro titolo Altri due se vogliamo essere onesti Il problema è che qua Potevano farlo fin dall'inizio Hanno deciso di metterlo a pagamento Ovviamente perché la gente voleva Questo finale vero E hanno deciso Mettiamolo come DLC E lo so Lo so E' sbagliato Però Purtroppo è anche questo Se vogliamo aggiungere Anche un piccolo puntino Su una I Per quanto Questa canzone sia bella Le altre due In persona 4 E in persona 5 Sono molto più emotive Colpiscono veramente Anche emotivamente con la canzone Magari tu non capirai davvero il giapponese Ma è il messaggio quello che è in porte Ti arriva Ti arriva Questo è bello Perché nonostante tutto Quello che è appena successo Quello che mi dà questa canzone È una sensazione che nonostante tutto Bisogna andare avanti Nonostante tutto quanto Però Non lo so Le altre due sono più Più di impatto qui secondo me Voglio vedere se adesso dopo i crediti C'è un'altra scena Posso dare un piccolo giudizio negativo Alla traduzione italiana Ci sono un sacco di errori Veramente Un sacco Per carità Però ci sono E' strano E' veramente strana questa cosa Di solito su questi titoli Sono molto attenti Non lo so Magari nella fretta Di volerlo fare uscire In contemporanea O comunque nel tempo giusto Non hanno Controllato nel modo correttissimo I testi Ma magari Oh Sono errori di svista e basta Purtroppo Credo Che il gioco ti lasci intendere Che forse siamo vivi Forse no Però sappiamo benissimo Che non è così Original Persona 3 O il Persona 3 Reloaded Player La fine dei crediti L'ultima cutscene Che non è così Fine Dalle ombre alla luce Caricando qui i dati salvati ricomincerai il gioco conservando certi attributi ai tuoi dati di fine partita Se sovrascrivi il salvataggio originale non potrai più riprendere dal punto del gioco Se carichi i dati di fine partita sulla rete potrai caricarli solo tramite la rete Ti consigliamo di salvare i dati di fine partita sulla console Dati di fine partita 153 ore Di cui molte sono andate tutte qua alla fine Queste ultime dieci ore sono state tutte quante atte a perfezionarci Ma non sono bastate purtroppo E' cambiato anche Wow Se questo non è un chiaro messaggio che è finita Quindi signori vi ringrazio a tutti per avermi seguito Come al solito se mi avete seguito Spero che questa serie vi sia piaciuta Noi ci vediamo quando uscirà il DLC Signori Grazie a tutti Ciao 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 Grazie a tutti.